Assessore, una campagna di comunicazione per l'uso dei defibrillatori, quali interventi sta mettendo in campo la Regione in questa direzione? Rientra nella strategia degli interventi che mettiamo in campo attorno alla rete di emergenza urgenza. Noi desideriamo dotare le nostre comunità dei defibrillatori semi-automatici per intervenire immediatamente, ma allo stesso tempo desideriamo intervenire sulle postazioni dei 118, sull'elisoccorso, cioè dotare la comunità abruzzese di una strategia di intervento sulla rete di emergenza urgenza più efficace, più di qualità e anche più di quantità. Oggi comunichiamo che una parte di questi interventi l'abbiamo già messo in opera, abbiamo consegnato 67 defibrillatori semi-automatici e abbiamo scelto prioritariamente di destinare questa strumentazione ai distretti di base, alle cosiddetti sedi di continuità assistenziale, ovvero presso le guardie mediche e poi successivamente doteremo i palazzi municipali e dunque i nostri comuni, i nostri comuni abruzzesi, di questa strumentazione. È integrata all'intervento efficace del 118 e in alcuni casi, ovviamente, quando sarà necessario, a quello dell'elisoccorso e saranno in grado di far fare un passo avanti alla nostra comunità regionale e di far apprezzare alla comunità degli abruzzesi di vivere in un territorio che, si può dire, nei prossimi mesi sarà più sicuro. Quanto riguarda i corsi per imparare a usare questi defibrillatori? Anche in questo caso saranno ovviamente gli uffici regionali, in collaborazione con le ASLA, garantire che il personale che dovrà dare reperibilità sia in grado, e quindi sia formato, sia in grado di utilizzare questa strumentazione. Un passaggio molto, molto importante anche questo.